carissimi pace pace del signore buona giornata dio benedica la vostra vita spero che state tutti quanti bene oggi è 11 settembre leggiamo nel libro del profeta naum al capitolo 1 al verso 7 dove troviamo scritto il signore buono è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in lui la conoscenza è qualcosa di indispensabile se vogliamo stabilire un grado anche minimo di contatto e di comunione nelle relazioni umane e approfondendo la conoscenza di una persona possiamo far aumentare o diminuire il nostro interesse per quella persona lì per quanto riguarda dio è scontato che più lo conosceremo più lo ameremo ciò che però il nostro testo ci sottopone è la conoscenza che dio ha di coloro che si rifugiano in lui dio ci conosce perché egli può investigare i nostri cuori infatti è scritto nel salmo 139 al verso 1 o signore tu mi hai investigato e mi conosci gli uomini non possono e frequentemente non vogliono conoscere gli altri o se vogliono conoscere lo fanno solo per ciò che li riguarda personalmente dio invece conosce tutti e non perché ha uno scopo personale un interesse da coltivare ma perché vuole semplicemente scoprire i nostri bisogni e trovare il metodo migliore per poterci aiutare e la conoscenza che lui ha è una conoscenza meravigliosa dio ci conosce indaga in noi con il caldo sentimento di un padre non quindi con l'occhio freddo di un scienziato né con il teorico indagare di uno psicologo ma proprio con l'amore che scaturisce dall'essere amore perché dio è amore dio ci conosce perché l'onnisciente gli può addirittura dice la scrittura pesare i nostri pensieri e prima ancora che glieli chiediamo o lui già conosce quello che c'è nel nostro cuore la nostra la nostra natura è limitata lui invece infinito e gli conosce addirittura quanti capelli abbiamo sul nostro capo e di conseguenza conosce anche i problemi e bisogni che ci sono nella nostra vita ed è per questo che dobbiamo scegliere di rifugiarci in lui perché il signore è buono è una fortezza nel giorno della distretta e conosce quelli che si rifugiano in lui allora coraggio fratello sorella amico caro se la tua speranza è riposta nel signore ricordati che è una speranza ben riposta perché non è qualcuno che è disinteressato ma è qualcuno che ha grande interesse per la tua vita ti ha talmente amato che ha dato il suo figlio per la tua salvezza come dice l'apostolo paolo nello scrivere la meravigliosa epistola ai romani al capitolo 8 al verso 31 che diremo dunque riguardo di queste cose se dì è per noi chi sarà contro di noi colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi non ci donerà forse anche tutte le cose con lui e allora ripeto coraggio perché egli ci conosce gli conosce i nostri bisogni egli ci donerà ogni cosa buona e utile per la nostra vita coraggio perché come abbiamo letto nel verso di stamattina egli è buono ed è un rifugio nell'angoscia c'è un luogo dove ci possiamo andare a riparare ed essere certi che l'anima nostra troverà riposo e il refrigerio addirittura è Gesù stesso che ci invita quando siete angosciati quando siete travagliati oppressi venite a me venite a me ed io vi darò riposo allora stamattina andiamo al signore andiamo con tutto il nostro cuore deponiamo il nostro gioco quel peso che stiamo portando che ci sta affliggendo e affaticando prendiamo il gioco del signore camminiamo con lui di pari passo conosciamolo sempre di più e permettiamo alla sua parola di guidare i nostri pensieri le nostre azioni di plasmare i nostri sentimenti in modo che ci comportiamo in modo degno dell'evangelio soprattutto in un modo saggio in un modo che ci permette di poter vivere una vita benedetta e una vita che si conduce non secondo gli eccessi di questo mondo ma secondo la sobrietà che ci viene insegnata dalle sacre scritture e benedetto sia il signore per gli insegnamenti della sua parola perché come è scritto essi sono un refrigerio per le nostre ossa sono salute per la nostra vita e naturalmente ancora prima per l'anima nostra possa il signore in questo nuovo giorno accompagnarci con la sua presenza e possa questo verso essere per ciascuno di noi un motivo di ristoro e possa questo verso fortificare la nostra fede la nostra consagrazione al signore perché certamente ne trarremo beneficio e certamente non saremo delusi perché negli occhi di coloro che guardano al signore non c'è delusione ma stupore e meraviglia per come il signore è capace di intervenire e ad andare al di là di quello che noi domandiamo o pensiamo coraggio fratelli dio ci benedica ci accompagni e la sua pace sia con tutti quanti noi